No, ma secondo te sono una squadra, 12-30, fanno il turno 9. No, ma secondo te sono una squadra, 12-30, fanno il turno 9. No, ma secondo te sono una squadra, 12-30, fanno il turno 9. No, ma secondo te sono una squadra, 12-30. Non perdere la squadra. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. 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 Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Grazie. 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 Va bene così. Guarda Nico eh. Stai qua non lì. Stai qua non lì. Stai qua. Guardavo la partita. Stai qua non lì. Stai qua non lì. La merda di Manu. Ehi. Vamo Nico. Vamo Nico. Buonissimo. Un appoggio però. Va bene, va bene. Lavorone. Buono Jacky. Buonoゔfino. Buono. Buono per la miglietta. Buono gi 누구. Qu COGN. Buono giù. Buono giù. Sì, 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 sì. E' da cuore! Giacomino! Scusate! Giacomino! Cos'hai, eh? Prima che si gira, però, eh! Vedi, vedi, vedi! Vamolo! Vedi, vedi! Dio! Oh! Oh! Vai, Vucca! Non lo dico, però, eh! Ecco, sei l'ultimo qui! Ecco, sei l'ultimo qui! Ecco, sei l'ultimo qui! Vai, Vucca! Bravo, bravo! Noi... Buongiorno 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 bene sei ripreso oppure ti fa ancora male è toccata? no, non è toccata allora lui è onesto mi dico che l'ha toccata è toccata allora lui è onesto mi dico che l'ha toccata che fai? che fai? che fai? ok un tre non è sotto 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 va bene dai va troverai la prima ciao 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 dai 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 donami ciao 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 Grazie. 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 Spoggia, spoggia là. Eh, eh. Eh, eh. Oh, bravo. Grazie. Grazie. Bravo. Bravo. Arriva ora. Bravo. 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 Vedi. Vedi. Mi piace. Uno per allo. E qua dietro, eh. Ok. Vedi. 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 Grazie. Grazie. Brava! Chi è? Vai, 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 va bene, va bene. Siamo educando. Vai! Vai cominciare a... Chi è? 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 Dai 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 dai. Come si sta a buona? ез Giorno. Ecco, con me. Ma si qui? Che fai con me. Vai爾ò. Ora 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 ora! Grazie.